La gente che si incrocia nel mondo ha bisogno di parlare parole come ponti per farsi capire per superare le barriere parliamoci di più in viaggio nelle feste al bar in casa, in strada in un incontro al mare se non parli con chi ti sta vicino se non chiami chi è lontano se non ascolti chi ti versa il vino non capisci quel che è andato e sei costretto ad immaginare e se immagini puoi vederti tutto il bello, il facile ma molto spesso anche il brutto parliamoci di più spieghiamoci di più facciamoci capire ma impariamo anche ad ascoltare anche quello che non riusciamo a dire parliamoci di più il barriere il barriere si è andato le bambi si è andato il barriere non capire si è andato la mia vita e sei il barriere il tuo lavoro e non trovi il tempo per parlare, se fai attendere chi ti aspetta, se mentre parli guardi via, costringi gli altri ad immaginare e chi immagina può vedere di tutto, il bello, il facile, ma molto spesso anche il brutto. Grazie.